Benvenuto! Nel video di oggi parliamo di quanto sia importante fare azione per uscire da un disturbo d'ansia. Io sono il dottore Andrea Tomassetti, sono un psicologo specialista dei disturbi d'ansia. Mi occupo da quelli che sono attacchi di panico, all'ansia sociale, dal doc all'ansia generalizzata. Nel video di oggi parliamo appunto dell'importanza di fare azioni nella giusta direzione per uscire dall'ansia. Vedi, quando abbiamo a che fare con l'ansia, la cosa più comune che la nostra mente ci suggerisce in quei momenti è quella di scappare da quei pensieri, da quelle sensazioni negative che stiamo vivendo in quel momento. Tanto che non abbiamo controllo effettivo sul nostro mondo interno, quello che la nostra mente ci suggerisce è evita il mondo esterno. Quindi scappa da quella situazione in cui quei pensieri, quelle sensazioni si sono presentate. Per la prima volta. Dunque noi, mettendo in atto una serie di evitamenti, imbocchiamo il sentiero della difesa e della protezione. Però questo sentiero, sul lungo periodo, che cosa comporta? Comporta che noi ci troviamo ad evitare sempre più situazioni. E la nostra vita si restringe a tal punto che ci sentiamo come se avessimo un H, come se fossimo all'interno di una K, all'interno di un barattolo che ci comprime sempre di più. E dunque è importante fare azione per uscire da un disturbo d'ansia, ma far sì che queste azioni non siano guidate dall'evitamento, ma siano piuttosto delle azioni guidate dai propri valori, da quello che per me è importante. E quindi la cosa giusta che dovremmo fare è quella di imboccare il sentiero della vitalità e della libertà. Perché vedi, in fin dei conti, quello che a tutti noi veramente importa come esseri umani è essere liberi, poter vivere la vita che realmente desideriamo, per quelli che sono i nostri valori, per quelle cose che per noi contano di più. E ognuno di noi ha le sue cose, ma dobbiamo avere la libertà di poter seguire quelle qualità lì, di seguire quelle cose lì, quelle cose che ci fanno battere il cuore. Dunque è di fondamentale importanza per uscire da un disturbo d'ansia muoversi proprio verso quella direzione. Dunque mettere in atto le giuste azioni, le azioni nella giusta direzione. Ma per farlo dobbiamo veramente capire qual è il modo in cui vogliamo comportarci, nonostante le difficoltà che la vita ci sta presentando a causa dell'ansia. Dunque è importantissimo fare azione. Puoi iniziare a fare azioni sin da oggi, in autonomia. Puoi scegliere qualcosa che per te è veramente importante, nonostante la difficoltà che stai vivendo adesso con l'ansia, piano piano avvicinarti a quella cosa lì. Non importa come andrà, non importa se riuscirai al 100% a fare questa cosa che ti eri previstato. L'importante è averci provato, aver raggiunto anche il 20% e nei prossimi giorni cercare di risporti a quella cosa lì, riavvicinarti a quella cosa lì, facendo un passino in più, un passino in più, un passino in più, giorno per giorno, fino ad un certo punto, che riuscirai a fare qualcosa che adesso ti è veramente impensabile. Dunque hai questa possibilità di muoverti nella giusta direzione. Se vuoi farlo insieme a me perché magari non sai cosa veramente vuoi dalla vita o l'ansia ti sta bloccando in modo eccessivo, possiamo farlo insieme. Infatti ho proprio rilasciato nel corso di questi giorni un videocorso completo dove ti mostro appunto passo dopo passo quelli che sono le giuste azioni che ti porteranno fuori dall'ansia. Perché noi dobbiamo prima lavorare sul nostro mondo interno, poi scoprire il modo in cui veramente vogliamo vivere e muoverci in quella direzione. Ecco, basta lavorare su questi aspetti qui. E ho appunto unito all'interno di questo videocorso, presentato tutti i passi necessari per ottenere queste preziosi conquiste. Quindi ti ricordo anche che è in offerta, quindi fino a pochi giorni, mancano davvero pochi giorni. Mi raccomando non lasciare che anche questa volta la tua mente prenda il sentiero della difesa e della protezione, il sentiero sbagliato, il sentiero che ti ha portato nella situazione in cui sei in questo momento. È un investimento per te stesso, ti richiede uno sforzo, ti richiede di fare quel passo fuori dalla tua zona di comfort. Ma ti assicuro che se prenderai oggi questa decisione, potrà veramente essere questo il giorno della tua rinascita. Io ti lascio il link nei commenti e nella descrizione. Mi raccomando, cliccaci, leggi tutte le informazioni. Se hai ancora poi dei dubbi, ti do anche la possibilità di prenotare una chiamata di 20 minuti gratuita con me, dove appunto parliamo se questo corso può essere la giusta soluzione per il tuo caso specifico. Io ti ringrazio, spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a seguire il mio canale e soprattutto a cliccare sul link e leggere tutte le informazioni. Io ti saluto, ti ringrazio e al prossimo video.